Buongiorno a tutti e benvenuti in questo webinar dell'NRD. Oggi vedremo cosa sono le landing page, come si creano e soprattutto perché sono così importanti per il tuo business. Vedremo la cosa da entrambi gli aspetti, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista teorico. Chiaramente avremo un'oretta per cui non potremo fare miracoli, però cercherò di darti il massimo contenuto affinché quest'ora che stai investendo con me sia ben spesa. Benissimo, allora per partire devi sapere che io oggi mi occupo principalmente di landing page, magari vado a convegni, faccio presentazioni per quanto riguarda il libro, ok? Però all'inizio era un pochino differente. Devi sapere che io di carattere sono molto timido da sempre, no? E quindi questo cosa succedeva? Succedeva che per me era molto complicato relazionarmi con una persona che non conoscevo. Ma ancora oggi è così, cioè se ci incontriamo ad esempio pubblicamente e io già ti conosco, magari possiamo parlare per ore, se invece effettivamente non ci siamo mai parlati, mai conosciuti, abbiamo solo avuto qualche chat o roba del genere, sarà molto difficile che io riesca a venire da te e dirti ciao, sono Luca, ci siamo sentiti in chat. Non riesco, è proprio un limite molto importante. E praticamente cosa succede? Succede che questa cosa, questa difficoltà nella relazione, o caratterialmente, no? ha fatto in modo che io nel tempo dovessi dare ad ogni parola che andavo a pronunciare molto più peso. Perché? Perché chiaramente mi costava di più. Quindi diciamo che, mettiamo che ero alle scuole medie, c'era una ragazza, volevo dire ciao mi chiamo Luca, come ti chiami? Ecco, per me era come darmi una coltellata e di conseguenza dovevo stare molto attento a queste parole. E mi rendo conto oggi, dopo vent'anni, che effettivamente questo tipo di cosa è la stessa cosa come quando devi effettivamente comunicare o creare un progetto di comunicazione nel web, e hai poco budget. Siccome hai poco budget, a volte è talmente per te importante ottimizzare bene quel poco budget che la cosa quasi ti blocca, no? E quindi cosa è successo? È successo che sono stato più attento e ho dovuto fare in modo che quello che facevo in termini di relazioni, producesse sempre un buon effetto. Quindi diciamo che se uno magari estroverso poteva andare da 30 ragazze a provare ciao come ti chiami, eccetera, io potevo farlo due volte perché erano due coltellate e alla terza cominciò ad accusare. Quindi fisicamente dovevo stare più attento. Questa cosa si è ripercosse diciamo nel mio carattere, quindi in tutto quello che faccio a livello di comunicazione sono molto pignolo, metodico, cerco di guardare ogni tipo di cosa per fare in modo che tutto sia perfetto, no? E questo mi ha portato fisicamente a cambiare quella che era la mia professione. Prima facevo siti web normali, quindi dove tu ti relazionavi con tutti allo stesso modo senza particolare attenzione a quello che dicevi. Normalmente i siti web parlano di quello che le aziende fanno, del perché sono brave, delle ultime loro novità. Però di fatto se tu incontri una persona ad esempio e parli in questo modo ti renderei conto che non sei interessante per questa persona, no? Quindi quando tu incontri una persona la prima cosa che lei vuole sentirsi dire è ciò di cosa ti occupi per poterti raccontare lei, di cosa si occupa, di cosa ha bisogno, cosa vorrebbe, cosa si aspetta da te. Questo è il modo in cui normalmente le persone vogliono relazionarsi per quanto riguarda il web e anche l'offline, no? Quindi cosa è successo? Che ho cambiato quello che era il mio lavoro. Ad oggi a differenza di molti consulenti che si occupano di dare visibilità ai siti web, quindi creare occasioni, io mi occupo di trasformare le occasioni in clienti, quindi facendo in modo che l'investimento in visibilità sia capitalizzato al massimo. Questo lo faccio attraverso un percorso molto semplice, quindi diciamo che se l'utente è in un punto A e la vendita è in un punto B, io cerco di tirare la strada più breve, la riga più netta per unire questi due punti. Come si fa? Normalmente tramite una pagina che riesce a creare un dialogo con l'utente, quindi una pagina che si cura di quello che un utente vuole e di conseguenza, come vedremo più tardi, di offrire la migliore risposta a quello che è il suo problema. Tu dirai, è una linea retta, è molto semplice, cosa ci vuole? È elementare che io vado a intercettare quello che potrebbe essere un bisogno e dare la soluzione migliore? In realtà no, non è così elementare. Questa è una slide che utilizzo molto spesso nelle presentazioni quando ci sono anche persone nuove perché dovete sapere che da una ricerca e costantansi di diversi anni fa, per ogni 92 dollari in America investiti in traffico veniva investito un dollaro in user experience. user experience è quella cosa che permette all'utente di trovarsi a suo agio, in un ambiente accogliente dove le cose che trova scritte sono quelle che lui si aspetta e quindi di fatto la sua esperienza in termini di vendita che potrebbe essere sia dal punto di vista di uno store fisico che in un negozio online. Quindi si occupa, tutti vogliono avere attenzione ma poi questa attenzione non la ottimizzano bene. Il rapporto è veramente schiacciante, oggi probabilmente le cose sono un pochino cambiate però considerate che questa era l'America che normalmente qualche anno avanti in termini di questi concetti quindi probabilmente noi attualmente saremo più o meno in questa situazione almeno fino a un annetto fa quando poi con il libro mio di Saletti e di altre persone hanno cominciato a cambiare un pochino le cose. 92 a 1 il rapporto è questo, cioè tutto il budget da una parte per quanto riguarda la visibilità e pochissima attenzione a quello che poi fai con quella visibilità e questo cosa comporta? Che tutte le aziende comunicano in questo modo quindi le persone sono stressate da un sacco di messaggi e di conseguenza questi messaggi promozionali o anche non promozionali perché poi alcuni hanno cercato di correggere il tiro ma sono comunque troppi e di conseguenza nessuno presta attenzione a quello che dici, non solo per quanto riguarda magari le reach che scendono o i costi di adwords che salgono ma proprio per il fatto che le persone non interessa continuare a essere stressati e chiaramente volendo vivere in una condizione di serenità le persone sviluppano delle difese che creano delle barriere impenetrabili a quelli che sono i messaggi promozionali. Bene, per capire come risolvere questo problema dobbiamo capire come funziona l'attenzione. Allora di base dobbiamo sapere che un utente ci presta la sua attenzione quindi l'attenzione non è un regalo. In Italia si dice prestare perché fisicamente ci aspettiamo che l'attenzione venga trattata bene per cui essere istituita in modo che così l'utente non rimane scontento. Invece ad esempio in America si dice pay attention perché effettivamente l'attenzione è una forma di pagamento degli utenti come vedremo tra poco in un bel testo che ho messo da parte per voi. Una volta che l'utente ci presta la sua attenzione magari cliccando sull'annuncio atterra sul nostro sito web. Sul nostro sito web ha circa meno di un quinto di secondo per formare la sua prima impressione. Quindi ancora non legge, diciamo che vede le figure, cerca di capire più o meno di cosa parla, così ma deve già formarsi un'idea positiva, un'idea professionale con il sito web pulito dove non è stressato da troppi stimoli visivi. Quindi quando arriva qua praticamente cosa succede? Ha due opzioni o capisce in circa 5 secondi che nel posto giusto quindi che l'annuncio che ha cliccato è il risultato su Google piuttosto che è la risorsa che gli serve per risolvere il suo problema o che lo interessava quando ha voluto approfondire quel collegamento oppure rimbalza. 5 secondi è importante perché? Perché se pensiamo che c'è la pop up dei cookie, poi c'è la pop up da me mi piace, poi c'è la pop up e non andare via, poi c'è la pop up e capiamo subito che potrebbe essere che noi andiamo a dare dei messaggi all'utente che lo stressano ancora prima che lui abbia capito che è nel posto giusto e quindi probabilmente l'utente vada via ancora prima che noi abbiamo avuto la possibilità di dire ciao mi chiamo Luca mi occupo di landing page. Rimbalza e cosa succede? Questo. Quindi un casino perché? Perché noi perdiamo un'occasione e quest'occasione non solo la perdiamo noi ma la regaliamo al nostro concorrente. Quindi di fatto noi abbiamo investito magari in pubblicità, l'investimento non ha portato risultati quindi abbiamo speso soldi, siamo scesi di soldi, il nostro concorrente invece è salito perché ha avuto un cliente e di conseguenza non è che noi rimaniamo in pari. Se tu non fai le cose fatte bene non rimani in pari, pian piano scendi e poi dipende quanto tempo è aggressivo il tuo mercato potrebbe essere che tu scendi molto velocemente o molto più lentamente. Ad oggi diciamo che la maggior parte dei siti web italiani è sceso ancora lentamente però con l'entrata di grossi competitor in alcune categorie vedi proprio che il dislivello ti porta proprio subito giù e non riesci più a tornare su per competere. Quindi diciamo che oggi se non avete una landing page, non sapete comunicare bene, siete in ritardo, non siete early adopter se lo fate bene oggi. Se facevano i primi corsi, io credo di aver fatto il primo corso maddi di landing page circa quasi ormai dieci anni fa, era un corso molto interessante, molto bello, non credo che ad oggi ci sia ancora. Però di fatto dovete sapere che queste cose si fanno da tantissimo. Ci sono dal 1900 agenzie che studiano il modo migliore per confezionare messaggi ancora prima che nel web e nella carta stampata. Quindi di fatto non è che è uguale scrivere un testo o un altro nel sito o in una newsletter e se dovete fare una cosa male probabilmente è meglio ad oggi non fare nulla, almeno il vostro utente non sarà stressato e quindi non vi metterà in blacklist in quelli che lo stressano con comunicazioni inutili, ma piuttosto magari vi terrà lì e magari si dimenticherà di voi, però almeno non avrete una connotazione negativa. Se invece fate le cose fatte bene chiaramente lui noterà la differenza e posso dirvi che la sensibilità degli utenti nel notare la differenza di come le persone comunicano è molto 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 accentuato ultimamente perché chiaramente le persone stanno sviluppando una propria coscienza e di conseguente il livello si alza sempre di più. Quindi rimbalza, The Ozone come al solito non è contento e succede questo, l'utente dal punto A passava al punto B dove c'era la vostra vendita ma non arriva al punto B perché è perché rimbalza e torna su Google o su Facebook e va dal vostro concorrente. C'è un altro effetto collaterale, il vostro concorrente come dicevamo prima guadagna e voi perdete però c'è un altro punto e lo strumento che vi ha dato quel traffico, Google o Facebook, registra il fatto che l'utente non ha soddisfatto la sua richiesta, il fatto che l'annuncio non è piaciuto, che il risultato dell'annuncio non ha dato il risultato sperato e quindi cosa fa? Vi penalizza perché lui quando dà un suggerimento vuole dare dei buoni suggerimenti. Quindi può essere che il vostro sito scenda di posizione, può essere che effettivamente Facebook vi faccia pagare di più gli annunci e di conseguenza quel dollaro che avete speso, quei 92 dollari invece che avete speso per avere l'attenzione che non siete riusciti a gestire, in realtà costeranno sempre di più perché a parità di investimento in visibilità le fonti di traffico premieranno sempre chi questa visibilità la gestisce bene. Anche se poi magari non ottene risultati, però almeno la gestisce bene. Quindi questo è fondamentale e questo testo tratto da Watertight Marketing che è uno degli ultimi appunti di studio che abbiamo fatto è molto interessante, non mi piace, non ho dovuto leggere le slide, però questo è carino e ci tenevo a farvelo vedere. Dice, il tempo di una persona è prezioso, è il loro regalo per voi per permettervi di raccontare loro la vostra offerta. Così, mentre la giusta tempistica è importante per catturare l'attenzione di un consumatore, guadagnare il diritto di prendere il suo tempo è cruciale e, a maggior ragione, se si desidera sviluppare con lui una relazione a lungo termine. Quindi il modo in cui vi relazionate a una persona in tutti i tipi di comunicazione che fate, dalla richiesta per un pronto intervento al tecnico quando arriva in casa, al come lo saluta, al come voi mandate la mail per chiedergli se si è trovato bene, è tutto fondamentale, non si può trascurare nessun aspetto di questa comunicazione, nulla può essere fatto male, velocemente, impostato, tanto per fare, perché le cose fatte tanto per fare non funzionano più. Guadagnarsi il diritto sul tempo è la chiave per realizzare una tempistica efficace e consolidare una strategia di marketing di successo. Catturare l'attenzione di qualcuno è questione di pochi secondi, una persona o vi noterà o non vi noterà affatto. Quindi questo testo molto bello, secondo me, vi fa capire proprio che è una cosa universalmente riconosciuta, il valore del tempo di una persona e quindi dobbiamo utilizzarlo bene. Per andare a ottimizzare questo tempo ed evitare che l'utente rimbalza, dobbiamo risolvere tre problemi. Se avete visto un pochino di quelli che sono le dischiette del corso, avete visto che io ho creato una piccola regola che si chiama regola dei tatami per spiegarlo, qua ve lo spiegherò in un altro modo che è, secondo me, altrettanto efficace. Poniamo il fatto che voi volete cucinare e quindi decidete di avere un ospite a cena e volete fare un qualcosa per lui. Allora, ci sono tre tipi di problemi in cui potreste imbattervi. Il primo è che la ricetta che voi scegliete non incontra il suo gusto. Quindi, ti faccio un esempio, a me mi fate una pizza ai quattro formaggi, a me i quattro formaggi non piacciono e di conseguenza, anche se avete fatto tutto bene, io purtroppo non apprezzerò quella ricetta. Quindi è un po' come quando la vostra offerta non incontra quello che è il bisogno del mercato. Poi abbiamo il fatto che la ricetta piacerebbe sicuramente, quindi non so, mi fate una margherita, quindi fantastico, mi piace, però la cucinate male. Magari fate la margherita, però buttate la mozzarella male, piuttosto che non la rendete attraente, diciamo l'impiattamento, ma impiattamento intendo anche dire il modo in cui avete cucinato, quindi il fatto che abbia un buon profumo, il fatto che abbia un buon sapore, quindi rendere la cosa appetibile. E infine il fatto che magari io ho trovato la ricetta giusta, saprei cucinarla bene, però prendo gli ingredienti a caso. Prendi gli ingredienti a caso, ti sembrerà un'eresia parlando di cucina, ma non ti sembrerà un'eresia se parliamo di web, perché? Perché nel web tutti vogliono prendere cosa? Più clienti possibili, più utenti possibili, più visibilità possibile, gratis, al minor prezzo possibile. E capisci che se questa visibilità non è di qualità, è inutile. Immaginiamo che io voglio andare a uscire con una ragazza, no? Quindi vado in strada, ho superato grazie a una pillola magica i miei problemi di timidezza e vado da 20 ragazze e li chiedo a tutte, vuoi uscire, vuoi uscire, vuoi uscire? Magari di queste 20 ragazze 10 mi dicono di sì o magari anche solo una. E io capisco che sono bravo a chiedere di uscire alle ragazze, di ottenere di uscire in funzione di quante mi rispondono di sì, no? Ma in realtà non dipende tutto da me. Perché? Perché se io vado fuori da un convento e becco magari, non so, le suore che stanno uscendo in borghese, io non so che sono suore, mi diranno tutte di no, probabilmente. Se invece vado magari in una discoteca, probabilmente le cose saranno diverse. Se vado in un posto dove c'è una festa di ragazze che l'ultima di loro si deve sposare, probabilmente nessuno mi dirà di no, perché sono già tutte fidanzate. Quindi di fatto il traffico è importante, no? E quindi diciamo dobbiamo superare questi tre problemi, che sono quindi l'offerta, se avete visto il webinar di settimana scorsa sull'FCB Grid, abbiamo visto come l'offerta è di vari tipi e di conseguenza in funzione di un tipo di offerta, di un prodotto o servizio che noi vendiamo, dobbiamo utilizzare diverse strategie di comunicazione. La landing page non è magica, a differenza di altri formatori che ti dicono che il loro metodo funziona per tutto, la landing page non funziona per tutto. Se tu devi vendere saponette, caramelle o birra, la landing page sì, può fare qualcosa, ma hai bisogno di un altro tipo di comunicazione. Se tu invece vendi, ad esempio, una cosa, un servizio per cui un utente ti vuole chiedere un prodotto in cui è interessato, eccetera, le cose cambiano. Ne abbiamo parlato però settimana scorsa, per cui non voglio ritornare alla cosa perché abbiamo tante cose da dire oggi, poi il webinar sarà ancora, se non lo hai visto tra, non il prossimo, non quello dopo, tra tre settimane. Sono quattro webinar in ciclo che girano in questa sessione formativa, quindi volendolo potrai recuperare. Il secondo problema è questo, quindi il traffico abbiamo detto, no? Gli ingredienti che tu prendi devono essere di qualità, se non sono di qualità tu puoi essere bravo quanto vuoi, io posso essere ben disposto ad assaggiare il tuo piatto, ma probabilmente se mi cucini la terra non sarà buona, capito? Poi magari potrò dirti buona, però non torno più. Oggi ci concentriamo su questo, quindi ci concentriamo sul fatto che noi abbiamo un'offerta che risponde ai criteri per cui noi possiamo fare una comunicazione attraverso una pagina di vendita, tra poco li rivedremo brevemente, e che i clienti che noi andiamo a selezionare sono interessati a quello che noi facciamo, perché non posso vendere una cosa a uno che non è interessato, è ovvio. Quindi quando queste due condizioni si verificano rimane solo la terza che è la comunicazione. Come io cucino il piatto? E il fatto che effettivamente lo rendo appetibile, che vuol dire magari anche solo semplicemente chiaro. Come si fa? Si crea una risposta, che in pratica funziona così. Attraverso annunci, addorso Facebook, intercetto utenti con un problema o con un desiderio. Faccio atterrare questi utenti in una pagina specifica dedicata al loro problema, una pagina dedicata a lui, quindi non a loro, ma a un utente specifico. L'utente in pratica in questa pagina sentirà di essere nel posto giusto e sentirà che quel prodotto è apposta per lui, ok? Quindi cosa succede? Che poi converte e quindi ci fa creare questo che è un rapporto. Grazie a cosa? Grazie alla landing page. Che cos'è? Non è una pagina ottimizzata per convertire l'utente in clienti, no, perché quella è una definizione che ti dice cosa deve fare, ma non come lo deve fare, e questa è una differenza importante, ma una landing page è la migliore risposta al problema dell'utente. Una pagina che riesce ad accompagnarlo, quindi non spingerlo, verso la nostra soluzione, facendogli capire che è la soluzione migliore per lui. Per però creare una migliore risposta devi conoscere quella che è la domanda. Non puoi farlo senza. Quindi di base devi capire cosa l'utente vuole per rispondere quello che lui si aspetta. Chiaramente non è che devi dire delle cose che non sono vere, ma è proprio il modo in cui tu crei il collegamento tra quello che tu vuoi dire e quello che lui si aspetta. La cosa in comune che c'è in mezzo, che vi accomuna, è appunto la comunicazione. Quindi come si fa? Si cerca di capire quella che è la domanda dell'utente. Poniamo il fatto che noi andiamo a creare un sito di questo tipo. Io non parlo mai di progetti che non ho seguito perché non mi piace andare a commentare quello che è il lavoro degli altri, per cui ti dico bene o male, errori o cose che ho fatto io. Questo è un sito che ho fatto per un mio cliente. Io in realtà non è un errore che ho fatto io perché gli avevo detto che questo tipo di comunicazione non funzionava, però loro volevano appunto una comunicazione con una grande foto, eccetera. Poi visto che abbiamo lavorato molto bene con questo cliente perché in altre cose invece ci siamo trovati molto bene, ho usato questo cliente proprio per farvi capire la differenza di quando una cosa può essere fatta in un modo o in un altro. Bene, questo era il sito di uno studio dentistico, no? E quindi la domanda è questa risposta può essere la risposta migliore a una domanda? È una domanda che è importante perché devi capire perché un utente arriva qua, cosa cerca, cosa vuole, no? E quindi può essere una buona risposta? Sì, però solo per ricerche branded. Quindi solo se uno cerca esattamente il loro studio e quindi qui trova tutte le cose che fanno, quello di cui si occupano, perché sono bravi e quando sono aperti con tutti i contatti visibili, che spesso molti non lo fanno neanche, può essere una buona risposta. Non per tutti gli altri, non per tutti quelli che hanno un problema specifico. Perché? Perché devono entrare qua dentro, capire, cercare di capire se loro fanno un qualcosa, poi non capiscono come lo fanno e di conseguenza tutto rimane improntato sull'io, io azienda, io che comunico e non su tu, quello che puoi trovare, quello che...